seconda corsa premio Norcia al cirigliano di Aversa non corre Dynasty HP restano in 6 5 in prima fila ed uno in seconda dallo steccato Druso Nerone GPD con Saverio Gallo DJ Mattia Orlando Darione Jepson Marco De Vivo da Cota Grimm sabato di Vincenzo Dol Guaizelle Giorgio D'Alessandro Junior seconda fila per Diana Indal con Vincenzo D'Alessandro Junior prende velocità il mezzo meccanico si allungano da Cota Grimm e Dol Guaizelle qualche incertezza per Darione Jepson che deve avviarsi con prudenza immediato il rallentamento dopo lo stacco iniziale da parte di Dakota Grimm che va a completare i duecento in quindici lo chapeau di sabato di Vincenzo gestisce già dalle fasi iniziali e completa il primo quarto in 31 Dol Guaizelle lo segue da vicino mentre Darione Jepson è ancora in cerca della azione giusta va a coprire DJ in terza posizione si arriva così ai seicento in 46 davanti alle tribune da Cota Grimm attaccata alla mano del suo interprete e padrone della situazione Darione Jepson affari spenti si avvicina ne viene fuori un primo giro in 1 e 2 scarsi si va piano tenuto conto della categoria e del contesto andamento tattico curva percorsa in 15 e 2 chilometri in 1 e 17 comincia ad allungare da Cota Grimm trascinandosi d'Oil Guaizelle con ai lati Darione Jepson poi DJ che precede Druso Nerone GPD di fronte una frazione consistente in 14 e 2 1 31 e 3 3 quarti di miglio da Cota Grimm se ne va va in fuga all'allievo di Di Vincenzo ci vuole provare Giorginio con Dol Guaizelle che lo fila tenta l'aggancio all'interno Diana Indal adesso ci prova Dol Guaizelle va su da Cota Grimm l'attacca a fondo lotta serrata sul traguardo probabilmente Dol Guaizelle mette il muso davanti a da Cota Grimm media che dovrebbe girarsi intorno all'1 14 e 8 per chi vince sono molto vicini al largo Dol Guaizelle all'interno da Cota Grimm nell'ultimo tempo di trotto probabilmente Dol Guaizelle prevale sull'avversario per il terzo posto una progredita Diana Indal grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti